Io so che potente, io so che potente, sì mio signor potente arriverà. Parire malattie, liberò dal grande errore, la vista riede al cieco, lo sollevò. Potente, potente, io so che potente, sì mio signor potente arriverà. Gloria al Signore, alleluia, gloria a Dio. Ringraziamo il Signore per le testimonianze che abbiamo ascoltato, che sono stati di edificazione. Veramente abbiamo un Dio che è fedele. Io vorrei ricordare che abbiamo ancora la preghiera del lunedì mattina. Se vi ricordate l'abbiamo istituita proprio per pregare per i bisogni, anche i materiali. Dio è fedele alla sua parola. Dobbiamo esercitare la fede, fratelli, basta poco. Credere nelle promesse della parola di Dio. Sono in dovere, anch'io, di ringraziare il Signore, di stimolare, di portarvi dei saluti. Come avete sentito da fratello Rocco, siamo stati nel friulo di Venezia Giulia. Abbiamo avuto modo di visitare delle comunità. Vogliamo pregare per questi fratelli, per queste sorelle, lì in quelle zone. Ci sono due giovani che abbiamo incaricato di seguire questi gruppi. Vogliamo pregare per questi giovani. Uno di questi giovani mi ha detto, mi avete mandato al confino. No, ho detto al confine. Il confino è una condizione, il confine invece è un luogo. Sono posti certamente non facili. Il lavoro è tanto. Preghiamo per questi giovani. Si chiamano Maurizio e Jonathan. Preghiamo che Dio li aiuti, li usi per l'avanzamento del suo regno. Amen. Leggiamo insieme nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 7. Gloria a Gesù, alleluia. Vangelo secondo Giovanni, capitolo 7, leggiamo dal verso 40. E come dicevo questa mattina, ci accingiamo adesso a gustare il pane della parola di Dio. Vero? Siamo a tavola. Ci crediamo? Una mensa bandita. Siamo a tavola. E come dicevo anche questa mattina, quando si è a tavola, almeno nelle nostre case, credo che tutti ci teniamo, che a tavola si sta composti, si sta in ordine, si sta con decoro. Vero? 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 Ci teniamo, credo che ci teniamo. Vogliamo avere la giusta attitudine di gustare, anche con la giusta attitudine, il pane della parola di Dio. E come usiamo le nostre case? Prima di mangiare, preghiamo il Signore. Chi ne ha i nostri capi? Gloria a te, Signore. Signore, ti chiediamo la tua guida. Chiediamo la tua unzione. Chiediamo la tua benizione. Fa che questo cibo che ancora per la tua grazia possiamo ministrare possa essere o di benizione, di edificazione, ma anche di sprono, di forza per l'anima nostra. Fa che la tua parola penetri potentemente mediante l'opera efficace del tuo spirito ai nostri cuori. Affinché mediante essa, mediante questa parola, noi possiamo fare sempre meglio la tua volontà. Tra le chiediamo nel nome di Gesù tuo figliuolo, il benedetto in eterno. Accomodatevi, accomodatevi. Leggiamo insieme. Amen. Una parte dunque della gente, udite quelle parole, diceva «Questi è davvero il profeta». Altri dicevano «Questi è il Cristo». Altri invece dicevano «Ma è forse dalla Galilea che viene il Cristo?» La scrittura non dice forse che il Cristo viene dalla discendenza di Davide da Betlemme, il villaggio dove stava Davide. Vi fu dunque dissenso tra la gente a causa sua e alcune di loro lo volevano arrestare, ma nessuno gli mise le mani addosso. Le guardie dunque tornarono dai capi dei sacerdoti e dai farisei, i quali dissero loro «Perché non l'avete portato?» Le guardie risposero «Mai un uomo ha parlato così». Perciò i farisei replicarono loro «Siete stati sedotti anche voi?» «Ha qualcuno dei capi o dei farisei creduto in lui?» «Ma questo popolino che non conosce la legge è maledetto». Nicodemo, uno di loro, quello che prima era andato da lui, disse loro «La nostra legge giudica forse un uomo prima che sia stato udito e che si sappia quello che ha fatto?» Essi gli risposero «Sei anche tu di Galilea? Esamina e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta». E ognuno se ne andò a casa sua. E' interessante questo testo della scrittura perché ci fa comprendere come Gesù, la sua parola, la sua persona, divide. Mette in crisi le persone, produce delle reazioni, suscita delle opinioni. E qui appunto vediamo come queste persone che hanno ascoltato Gesù, ciascuno di loro si fa una opinione. Anche le guardie che erano state mandate per arrestarlo non riuscirono a farlo perché le parole che ascoltarono in qualche modo impedì loro di compiere un'azione sbagliata. E infatti noi abbiamo detto a scuola domenicale quanto è importante che noi ascoltiamo le parole di Gesù. Perché quando queste parole trovano dei cuori aperti, queste parole ci impediscono di compiere azioni sbagliate. Quindi vogliamo dire, Signore, parla sempre al nostro cuore. Comunque vediamo come Gesù non può, non lascia nell'indifferenza quanti lo ascoltano e quanti lo conoscono. Abbiamo letto qui, vi fu dunque dissenso tra la gente a causa sua. Gesù che provoca dissenso. Gesù che in qualche modo provoca una reazione certamente così abbastanza controversa. Le opinioni che vengono così espresse sono diverse. E questa sera vogliamo proprio soffermarci su queste opinioni. sulle opinioni che la gente, le persone esprimono o anche così elaborano dopo aver ascoltato le parole di Gesù. Innanzitutto qui possiamo scoprire una opinione titubante, una opinione che manifesta, diciamo sì, una presa di posizione non netta e precisa. Una parte dunque della gente, udite quelle parole, diceva questi è davvero il profeta. Quindi con questa parola, con questa opinione, queste persone stanno esprimendo un giudizio positivo. Perché noi sappiamo che il profeta a cui essi fanno riferimento era una figura profetizzata già nell'Antico Testamento. Non dicono, come alcuni anche avevano detto, uno dei profeti, ma dicono il profeta. Noi sappiamo che le profezie dell'Antico Testamento parlavano di qualcuno che avrebbe preceduto la manifestazione di Cristo, la manifestazione del Messia. E infatti questo qualcuno sappiamo che è stato, Giovanni Battista. infatti al tempo del Battista alcuni, rivolgendosi a lui, dissero sei tu il Cristo, sei tu quello che noi aspettiamo, perché il messaggio di Giovanni Battista, anche il suo ministerio, fu un ministerio potente. Giovanni Battista disse, no, io sono la voce di uno che grida nel deserto. Preparate la via del Signore. Ora, vediamo che qualcuno qui, ascoltando le poche di Gesù, dice, sì, è il profeta. Sembra quasi, sembra quasi, che si fermino lì. Non riescono ad andare oltre, non vanno oltre, non riescono ad affermare che Gesù invece è il Cristo. non è il profeta, ma è proprio colui che doveva venire dopo, il Cristo. E forse fra questi, inizialmente, c'è anche Nicodemo. Vi ricordate quando Nicodemo, che di notte andò da Gesù, in qualche modo, egli riconosce che Gesù è venuto dal cielo, ma ancora non riesce, non riesce ad affermare in modo chiaro, netto, che Gesù invece è proprio il Messia. Ha questo timore, sembra appunto che l'affermazione, l'opinione che hanno alcuni, anche se è positiva, ma si ferma soltanto alla definizione il profeta. Non vogliono compromettersi più di tanto, o sembra quasi che affermare che Gesù invece è il Messia, questo li coinvolga un po' troppo, li chiami in causa in modo troppo netto. Perché riconoscere che Gesù invece è il Cristo significa riconoscere che è il Signore. Significa riconoscere che Egli è colui che appunto il Padre ha mandato affinché tutti gli siano sottoposti, affinché tutti riconoscono la sua signoria, la sua sovranità, perché il Cristo è anche Re. Amen? Quindi vediamo una opinione, possiamo dire, un po' timida, un po' titubante, o un'opinione che non riesce ad andare oltre, o perché forse ammettere, riconoscere che Gesù è il Cristo significa sottomettersi la sua volontà, significa prendere posizione netta, significa prendere posizione molto chiara. E alcuni ancora oggi, sì, riguardo a Cristo, riguardo al Signore, hanno delle opinioni positive, o pensano bene, ma non riescono a fare quel passo oltre, riconoscere Gesù quale Signore della propria vita. Hanno una bella opinione, hanno forse anche sentimenti positivi riguardo a Cristo, ma non basta questo, non basta pensare bene di Cristo Gesù. Forse anche tu pensi bene del Signor Gesù. Anche tu hai una bella opinione di Gesù, di quello che Gli ha detto, di quello che Gli ha fatto, ma questa sera il Signore non si sta dicendo che tu abbia una bella opinione di Lui, Egli sta dicendo che tu lo riconosca come il Signore della tua vita, che tu sia pronto ad aprire il tuo cuore, ad accettarlo come tuo personale salvatore. Non basta avere una bella opinione di Gesù, non basta come alcuni qui dicono, è il profeta, o certamente una figura positiva, importante, fondamentale, ma occorreva riconoscere che Gesù era il Cristo invece. Quindi un'opinione, ripeto, che manifesta questo timore, questa titubanza, questo timore di prendere posizione netta, forse, senza il forse, riconoscere Gesù come Cristo significa rinunziare a se stessi, significa lasciare il mondo, significa veramente dare il cuore, veramente al Signore, senza se e senza ma. E alcuni hanno timore riguardo a questo, hanno paura di arrivare oltre, o di andare oltre, diciamo sì, in quella che è l'esperienza della grazia. una opinione timorosa. Io spero che questa sera, se tu hai ancora qualche timore, hai timore di dare il tuo cuore completamente al Signore. e quindi ti fermi soltanto a delle opinioni positive. Questa sera, invece, dai il cuore al Signore. Riconoscelo come Gesù, come Signore della tua vita, come il Salvatore dell'anima tua. Non soltanto riguardo a Gesù possiamo scoprire qui un'opinione timorosa, anche se positiva, ma poi scopriamo anche un'opinione ignorante. Perché? Alcuni dicevano, perché qualcuno diceva che Gesù è il Cristo. Altri rispondevano, ma è forse dalla Galilea che viene il Cristo? La scrittura non dice forse che il Cristo viene dalla discendenza di Davide e da Betlemme, il villaggio dove stava Davide? In effetti ci avevano ragione. In effetti è vero. La scrittura diceva chiaramente che il Messia veniva da Betlemme, che il Messia appunto apparteneva alla discendenza di Davide. Ora, tutti sapevano che Gesù veniva dalla Galilea. Costoro, anche se apparentemente sembra che conoscano, in realtà non conoscono niente. In realtà hanno un'opinione che manifesta la loro ignoranza benché si ritengono sapienti, benché pensano di sapere. Perché sarebbe bastato se loro ci fosse un vero interesse, se veramente umilmente comprendessero che devono conoscere di più, devono scoprire di più. Essi pensano di sapere già tutto. Essi pensano, infatti, sono esperti della scrittura, sono esperti o della conoscenza biblica, ma in realtà non sono andati da Gesù per chiedergli personalmente. sicuramente anche loro sono stati colpiti, perché, ripeto, Gesù non lascia indifferenti. Oh, ma il Cristo, ma il Cristo viene da Betlemme e si fermano lì. Non vanno a indagare, non cercano di scoprire. La Bibbia, Gesù disse, chi cerca trova. Amen. La tua opinione da cosa dipende? Dipende dalle cose che tu pensi di sapere. Pensi di sapere già tutto, alcuni pensano di sapere già tutto. Non hanno bisogno di scoprire nient'altro. Si sono già creati, sono esperti anche della scrittura. Invece, fratelli e sorelle, sarebbe bastato che con un cuore sincero, costoro, andassero da Gesù. E forse anche manifestare la loro perplessità, il loro dubbio. Signore, noi, le tue parole sono spirito e vita. Vero? Però, noi sappiamo che Cristo viene da Betlemme, ma tu vieni dalla Galilea. Sarebbe bastato pochissimo, poco. E Gesù gli avrebbe detto, guardate che io sono nato a Betlemme. Amen. Avrebbero scoperto qualcosa che, insomma, era alla loro portata. Sapete, Gesù non bisogna fare chissà che cosa per scoprirlo. Qualcuno pensa che per conoscere Gesù chissà cosa bisogna fare. Basta soltanto avere un cuore sincero. Un cuore che umilmente riconosce che ha bisogno che Dio parli. Amen. Io non so niente. Ho bisogno di incontrare il Cristo Gesù affinché gli apra la mia mente e il mio cuore per conoscere la verità dell'Evangelo. Alleluia. Se c'è qualcuno questa sera che pensa di sapere già tutto, non ha bisogno di sapere altro, o pensa di essere ormai arrivato, o rimarrai purtroppo nella tua opinione ignorante, scusate in modo diretto, eh? Perché basterebbe che tu andassi al Signore con un cuore aperto. Se hai delle perplessità, se forse hai così delle incertezze, ti poni delle domande, però in realtà ti dai la risposta da solo rimarrai nella tua ignoranza. Vai al Signore ed Egli dichiarerà molte cose nella tua mente e nel tuo cuore. un'opinione titubante, un'opinione ignorante, ma poi c'è anche un'opinione proprio ostile. Alcuni manifestano una ostilità, proprio una ostilità, non perché quello che Gesù dice oppure quello che la sua persona lascia così nella perplessità sono persone che in qualche modo comprendendo non si fidano. Fratelli e sorelle, queste persone hanno visto miracoli, hanno visto i ciechi recuperare la vista, hanno visto i sordi udire, hanno visto gli zoppi camminare, hanno visto i morti suscitare, hanno visto gli indemoniati essere liberati da quei legami, hanno visto le opere potenti, perché Nicodemo disse noi sappiamo, perché nessuno può fare le cose che tu fai se appunto non gli hai dato dall'alto. Ora era evidente, ma qui vediamo che in loro c'è proprio un'ostilità, c'è un cuore chiuso, essi sono in qualche modo questa opinione legata alla precedente, non soltanto sono ignoranti, ma hanno un cuore proprio chiuso, potrebbero vedere chissà che cosa, però il loro cuore rimane in quella condizione, perché è una posizione che hanno preso, una posizione a prescindere, a prescindere, io spero che nessuno abbia questa sera questo tipo di opinione nel cuore. Ci sono alcuni che, benché ascoltano la parola di Dio, benché vedono quel che Dio è presente, benché vedano veramente come Dio opera, eppure rimangono con quel cuore duro, chiuso e ostile, non perché il Signore non sia chiaro, non perché il Signore non parli chiaramente, ma perché il loro cuore è in quella condizione. ed Egli potrebbe fare chissà che cosa, ma quel cuore rimarrebbe in quella stessa condizione. Vediamo questi uomini, ha qualcuno dei capi o dei farisei creduto in Lui, ma questo popolino che non conosce la legge è maledetto. Nicodemo che in modo timido ancora lui è titubante, anche lui ha un opinione titubante, ancora è un di quei discevoli nascosto, deve ancora confessare che Gesù è il Cristo. Deve passare da un'opinione positiva a riconoscere che Gesù è il Signore. Alleluia. Oh, vedete con quale atteggiamento, con quale ostilità. La nostra legge giudaica dice appunto, la nostra legge giudica forse un uomo prima che sia stato udito, ma questo dice ma non ci importa verificare le cose, ma non ci importa verificarle. Oh, noi non non siamo ben disposti, il loro cuore è chiuso, ostinato, anche quando per cercare di screditare quello che Gesù fa diranno che Gesù cacciava i demoni per Belzebù e Gesù dice quelle parole forti e precise. Ogni peccato sarà perdonato, ma non sarà perdonato il peccato e la bestemmia contro l'ospito santo, perché non c'è cosa più brutta, non c'è cosa più terribile che in modo cosciente, in modo ostinato rifiutare la grazia di Dio. Io spero che nessuno questa sera abbia un cuore così. Però grazie a Dio se da un lato possiamo vedere un'opinione titubante, un'opinione ignorante, un'opinione ostile, però poi possiamo anche trovare un'opinione vera, un'opinione giusta, perché alcuni dicono che Gesù è il Cristo. Amen. O ascoltando le parole che Gesù dice, dicono, altri dicevano questi è il Cristo. Riconoscono che veramente Gesù è il Messia che Dio ha promesso. Hanno di Gesù una giusta e vera opinione. Possiamo dire una opinione secondo la parola di Dio, perché quello che Gesù manifesta era già rivelato nella scrittura. Gesù un giorno disse a qualcuno e vi ricordate quei due discepoli dopo che Gesù risorse, Gesù li rimproverò perché non avevano creduto e iniziando da Mosè e poi i profeti Gesù parlò di sé perché le scritture disse una volta anche Gesù e i suoi connazionali le scritture parlano di me. Quindi se qualcuno voleva conoscere chi era Gesù poteva trovarlo chiaramente nella scrittura e qualcuno che probabilmente conosceva la scrittura ascoltando Gesù dice questo è il Cristo. Ed è importante questa sera che noi possiamo avere una giusta e vera opinione. Quanto è importante la verità? Vero, fratelli e sorelle? è importante conoscere la verità è importante che le nostre opinioni non siano frutto delle nostre elaborazioni mentali delle nostre opinioni personali ma che siano risultato veramente di ciò che Dio ci rivela nella sua parola è importante è importante che noi non ci soffermiamo sulle nostre opinioni personali ma che possiamo invece soffermarci e considerare ciò che Dio ci dice mediante la sua parola ecco perché incoraggiamo e sproniamo a non toscurare la parola di Dio Amen quanto è importante che anche i nostri giovani crescono con la conoscenza della parola di Dio perché questo produce una giusta e vera opinione Amen questo produce un'idea giusta eh vera di quello che Gesù è però fratelli e sorelle e con questo appunto vorrei anche concludere c'è un'opinione titubante e io spero che questa sera qualcuno passi da un'opinione titubante alla opinione alla realizzazione che Gesù è il Salvatore eh non accontentarti di avere un'opinione positiva di Gesù questa sera invece cerca di conoscerlo Amen incontra Gesù o affinché gli possa appunto rivelarsi nella tua vita perché c'è anche un'opinione particolare che possiamo realizzare ed è l'opinione rivelata un giorno Gesù disse ai suoi discepoli che appunto gli riportavano le varie opinioni che avevano sentito e che dice la gente che io sia e appunto qualcuno disse qualcuno dice che sei uno dei profeti qualcuno che appunto il profeta qualcuno che sei anche Giovanni Battista e Gesù disse poi a loro ma voi che dite che io sia e Pietro disse tu sei il il Cristo il figliuolo del Dio vivente e Gesù gli disse beato te Simone perché non carne e sangue ti hanno rivelato questo ma il padre mio che è nei cieli c'è un'opinione che viene dall'alto c'è c'è qualcosa che viene rivelato non è frutto della nostra capacità eh ora è importante avere la giusta opinione mi ricordo mi rivolgo in modo particolare a quanti anche perché perché no i nostri giovani nati in famiglie di credenti nel corso del tempo hanno ricevuto e stanno ricevendo l'insegnamento della parola di Dio questo produce una giusta opinione perché la parola di Dio è verità amè però non basta questo occorre che ci sia qualcosa che sia arrivato all'alto occorre che ci sia un'esperienza personale con il Signore ma voi ma tu questa sera che dici che io sia Signore io ho un'opinione positiva di Te Signore non ho un'opinione sbagliata non ho un'opinione cattiva ostile anzi io ho un'opinione giusta ma tutto questo può non bastare perché occorre che quello che noi conosciamo di Gesù sia rivelato mediante il Pio Santo ai nostri cuori un incontro personale con Gesù perché Gesù quando lo si conosce non può lasciare indifferenti oh io spero che nessuno nel tempo possa produrre un'opinione ostile sapete ho visto tanti che per anni hanno ascoltato la parola di Dio ma poi a un certo punto quando il loro cuore ha continuato a chiudersi a chiudersi a chiudersi a chiudersi sono arrivati poi al lato estremo a essere anche ostili a rigettare in modo anche a volte violento quello che è il messaggio dell'Evangelo a ribellarsi a ribellarsi ad ogni tentativo di parlare loro del Signore io spero che nessuno arrivi a questo tipo di opinione oppure magari pensando di sapere già tutto rimanga nella sua ignoranza ma questa sera vogliamo dire Signore rivelati ancora nella mia vita perché non voglio conoscerti con le mie capacità non voglio pensare che io sia capace Signore riconosco questa sera che ho bisogno che tu dall'alto parli al mio cuore mediante la tua parola che io possa incontrarti personalmente nella mia vita finché l'opinione che io ho non è quella che ho sentito dagli altri ma quella che io ho sperimentato personalmente nella mia vita vogliamo darci in piedi gloria a te Signore gloria a te Gesù alleluia alleluia gloria a te Signore forse non so se c'è qualcuno che per la prima volta ha ascoltato a parole di Dio e forse ti sei creato già un'opinione alleluia alleluia gloria a te Signore grazie a te